Si chiama Bruno Henrique Cassimiro Ramos, era un senza detto brasiliano di questa origine e si aggirava per le strade di San Paolo, una delle città del Brasile, ma ha cambiato vita radicalmente parlando grazie ad un taglio di capelli che ha attuato. L'anno scorso infatti stavamo indicando per le strade quando a un certo punto uno stilista di nome Leandro Matias ha deciso di invitarlo al suo parrucchiere per offrire un taglio di capelli diverso e così da quel momento la vita gli è letteralmente cambiata. Infatti cambiando taglio di capelli è diventato un modello, tanto che questo parrucchiere barbiere gli ha detto guarda se vuoi puoi cambiare vita grazie a me, con questo taglio di capelli rivoluzionario stare sicuramente molto bene e quindi ha scelto di fidarsi di questo barbiere. Di poco tempo è diventato un modello ed è riuscito ad avere una estetica migliore, più bella, più predevole rispetto a quella che era prima anche che lo vedeva diciamo così barbone effettivamente parlando. Capelli arruffati, barba in corta, insomma stava messo molto male. Invece con questo nuovo taglio di capelli, con questa barba più curata, con questa estetica migliorata notevolmente è diventato un modello affermato. Beh, complimenti dunque a questo uomo, a questo ragazzo che ha cambiato bene e meglio ed è diventato un uomo diverso. Bruno Enrique Cassimiro Ramos Iscrivetevi, seguite la commentata e ciò ad andare a togliere.